Il maestro mi del via, procederei presentando i primi, anzi i prossimi tre brani che la nostra orchestra eseguirà. Eccoci qui, il primo brano sarà Canzone e danza del Palio, poi la Passorale numero uno e ancora la Gazza Ladra. Autore di molte composizioni per banda, il maestro Giacomo Lacerenza diresse negli anni venti i complessi bandistici di Montemesola e Trinitapoli. Fu uno dei più grandi trombettisti dell'epoca e padre di due figli musicisti. Insieme alla conoscitissima Marcia Fonebretti Ristezze, compose due pastorali e le differì numerandole. La Passorale numero uno, di Giacomo Lacerenza che ascolteremo, è stata strumentata nella versione per banda da Giuseppe Gregucci ed è sicuramente una delle più belle del repertorio tarantino. La Gazza Ladra. Ascolteremo la celebre sinfonia dell'opera La Gazza Ladra in cui vengono espressi al meglio i famosi ripetendo e crescendo rossignani. I due rulli del tamburo aprono la sinfonia e dopo un'elegante introduzione Giacchino Rossini affida le giocose melodie ai legni per poi sviluppare la composizione all'intera orchestra. Ascolteremo questa sera una riduzione per banda della sinfonia. Grazie maestro, grazie fanfara, tutto per voi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.